Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Antonella Baccheri e oggi preparerò insieme a voi spaghetti con crema di burrata e melanzane. Gli ingredienti che ci occorreranno sono una melanzana, delle burrate, spaghetti, basilico, olio extravergine di oliva e dei pinoli. L'unica cosa, io non ho utilizzato i pinoli perché non li avevo, quindi ho fatto a meno. Forse avrei potuto utilizzare delle noci, ma non ci ho pensato. Io utilizzo una melanzana violetta. Per prima cosa la tagliate e la fate macerare con del sale per una mezz'oretta tre quarti d'ora, due burrate ed è il basilico fresco. Nel frattempo io ho tagliato le melanzane, le ho infarinate e le ho fritte. Potete anche non infarinarle, ma io ho preferito passarle un po' nella farina. E come per magia, ecco le nostre melanzane fritte. le mettiamo da parte e le utilizziamo alla fine per completare la nostra ricetta. Grazie. Mettete le burrate, il basilico e l'olio extravergine all'interno di un recipiente e con l'aiuto di un mixer frullate tutto. Grazie. Grazie. Nel frattempo mettete una pentola a bollire e quando arriverà a bollore buttate i vostri spaghetti. Prendete una padella e mettete all'interno della padella la nostra cremina. Fatela riscaldare e aggiungete un mestolo di acqua di cottura per rendere più liquida la nostra cremina. Grazie. Ora che la pasta è pronta, inserite la pasta all'interno di questa cremina e fatela amalgamare bene. Saltate bene la vostra pasta e alla fine inserite le melanzane. Visto che io le ho infarinate dovrebbe venire un po' più cremosa. Questa è una ricetta non riuscita. Molte volte le ricette che troviamo sul web non sono reali e io non riesco a capire il perché non debbano dare gli ingredienti esatti. Io ho letto bene la ricetta. Spaghetti con crema di burrata e melanzane. La burrata è l'esterno di mozzarella con all'interno questa cremina, questa burrata. Quindi io ho frullato il tutto. Ma se devo essere sincera, secondo me hanno aggiunto anche della panna. Quindi questa mia ricetta non copiatela perché è una ricetta non riuscita. Oramai le riprese le avevo fatte. Bisognava mangiare e così l'ho servita lo stesso. Questo è come rovinare una pietanza. Praticamente sono venuti degli spaghetti con mozzarella filante e pesto di basilico secondo me. Cosa vi devo dire? Se questa mia ricetta sbagliata vi è piaciuta lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Purtroppo mi sono fidata. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. La mangeremo comunque perché il cibo non va mai buttato e poi sono tutti ingredienti buoni. Però questo mi servirà da lezione perché non sempre le ricette che troviamo sul web sono attendibili. Beh, io non posso che augurarvi buon pranzo. Vi abbraccio e ringrazio tutti voi per il tempo che mi avete dedicato. Grazie a tutti voi che mi seguite e grazie a tutti voi che vi siete iscritti al mio canale. Siete davvero tanti. Vi auguro una buona giornata e alla prossima ricetta. Ciao da Antonella Bacheri. Spaghetti con crema di burrata e basilico. Ma questi sono spaghetti con mozzarella filante, pesto di basilico e melanzane infarinate e fritte. Beh dai, diciamo così. Ciao! Baci e abbracci. Vi voglio tanto 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 bene e vi raccomando sempre forti. Un abbraccio. Ciao! Ciao e alla prossima. Ciao!